In questo video proverò a spiegare in maniera estremamente semplice di cosa stiamo parlando perché ho visto che in questi mesi nonostante il lavoro fatto di spiegazione eccetera molti sono rimasti indietro e questo in realtà è un buon segno è un buon segno perché qualsiasi tecnologia particolarmente innovativa è difficile da spiegare finché non ne fai esperienza vi ricordate internet all'inizio? Come spiegavi internet? Dicevi che c'erano dei server che si collegavano? Non si riusciva a capire, lo capisci internet quando inizi ad utilizzarlo è un buon segno perché non stiamo dicendo facciamo un Airbnb solo italiano o facciamo un Airbnb con le commissioni al 10% che è facile da capire stiamo dicendo facciamo una piattaforma decentralizzata cioè una piattaforma come Booking, come Airbnb che però non ha un centro, è distribuita, è in mano agli utenti, agli host e ai guest non sto neanche a spiegarvi a livello tecnico come sia possibile fidatevi, vi siete fidati di internet che un giorno avremmo potuto parlare online via video, vi siete fidati, ha funzionato non vi interessa la tecnologia che c'è dietro, giusto? Facciamo così anche con la blockchain non importa la tecnologia dietro, vi dico solo ciò che è possibile sarà possibile un organismo, un ecosistema che funziona tanto bene quanto le OTA attuali solo che non ha dietro una corporazione che ha investito miliardi e che adesso deve estrarre questi miliardi per rientrare nell'investimento e per guadagnare ora, qual è il motivo per il quale è importante muoversi in questa direzione? in maniera molto semplice il rischio grosso è che stiamo diventando dipendenti senza diritti, senza contratto, senza nessun tipo di garanzia di booking e di Airbnb la metto giù così in maniera molto semplice perché? perché nel momento in cui i tuoi margini vengono ridotti però devi comunque garantire una qualità altissima devi mettere tu la casa, devi mettere tu il rischio e i tuoi guadagni sono come uno stipendio sei un dipendente e non hai diritti siamo in questa situazione? non lo so ci stiamo avvicinando secondo me sicuramente non lo dico io, lo dicono tutti gli analisti di ciò che sono le piattaforme perché oggi il mondo è in mano alle corporazioni delle piattaforme Google, Uber, Amazon, Facebook sono loro i nuovi padroni noi ci lamentavamo quando eravamo dipendenti della Fiat facevamo gli scioperi eccetera magari tornare a quei tempi in un certo senso perché almeno potevi farlo sciopero come fai lo sciopero contro Airbnb? e queste corporazioni sono in grado di calcolare esattamente fino a che punto tirare la corda prima che si spezzi? per cui non ti fanno saltare, non ti fanno uscire da booking o da Airbnb ci resti dentro ma ha malapena ci resti con l'acqua alla gola ora al di là di questa visione apocalittica che può realizzarsi o meno c'è comunque la possibilità di dire vabbè per lo stesso lavoro guadagno un 10% in più che spesso vuol dire comunque avere un margine molto più alto rispetto ad adesso non è solo un 10% in più se a te di una prenotazione per esempio resta il 30% e riesci ad avere un 10% in più è un bel salto in avanti ti dà parecchio spazio oltre a questo possiamo cominciare a pensare di contrastare questa corsa al ribasso sui prezzi che probabilmente ci ha fatto più male delle commissioni stesse che è stata chiaramente spinta da Airbnb è stata chiaramente una mossa per contrastare booking e far la guerra sui prezzi per acquisire più clienti sulle nostre spalle e poi c'è l'altra enorme opportunità di guadagno che faccio fatica a spiegare perché c'è sempre paura della fregatura dietro voi avete sentito che chi ha comprato il bitcoin qualche anno fa spendendoci 1000 euro adesso ha dei milioni in tasca questo è stato semplicemente qualcuno che ha creduto in una piattaforma quando non ci credeva nessuno ha fatto un piccolo investimento e si è arricchito una cosa simile si sta realizzando in tanti altri progetti simili al bitcoin nella fase veramente iniziale di questi progetti non è nemmeno necessario comprarli questi token quindi queste monete, queste criptovalute si può collaborare ed è questo che voglio proporre voglio che collaboriate al nostro progetto che diventi un progetto anche vostro in cambio di questi token che potranno valere zero ma che quando andranno sul mercato avranno un valore in euro che potrete poi vendere c'è quindi la possibilità di entrare in questo progetto adesso aiutarci a diventare grandi ma aiutare chi? non aiutare una ditta aiutare noi, noi network a diventare grandi fare un progetto interessante, migliore degli altri andare sul mercato e questi token acquisiranno un valore reale in euro lavoro, collaborazione che può voler dire semplicemente condividere i post parlarne un po' in giro anche quello una volta che è misurabile può essere poi scambiato contro questi token i token sono una scommessa sul progetto e che rendono il progetto subito vostro quindi è possibile aspettare che il progetto nostro o da altri vadano in porto e utilizzare queste piattaforme come alternativa o affiancarle alle OTA classiche però la vera opportunità, la cosa veramente bella è di entrare adesso abbiamo bisogno di una mano perché non abbiamo dietro grossi investitori ma anche per scelta perché il grosso investitore poi ha il controllo e si finisce di nuovo a dover estrarre valore questa è una cosa che può funzionare solo se veramente in tanti partecipiamo quindi vi invito ai nostri incontri parleremo di questo in maniera anche molto più approfondita e ci andremo a confrontare sul tipo di portale che dobbiamo creare spero di essere stato chiaro spero di avere creato un po' di interesse se volete approfondire sarò in giro per l'Italia a fare vari incontri dal vivo vi invito caldamente spero che ci conosciamo e niente non mi resta che salutarvi a presto ciao